Sabato 24 e 25 marzo nella Pineta di San Vitale, al Circolo Ipico Ravennate, si è tenuta una gara di completo di equitazione con cavalieri provenienti da tutta Italia e alcuni anche dall'estero. Per l'occasione ci siamo recati al centro per capire le passioni e le emozioni che legano gli atleti ravennati e non a questo sport. Da quanto tempo è che pratichi questo sport e in che modo ti sei avvicinata? Allora, quest'anno sono 15 anni e ho cominciato perché a un ristorante, così avevo questi poni e ho cominciato a salire sui poni e quindi dopo mi hanno portata qui e ho cominciato. Ho iniziato a montare nel 79, in realtà la prima volta a cavallo ho iniziato nel 73, avevo 6 anni durante l'austerity, la domenica non si poteva andare in auto e quindi se andavo o in bicicletta o a cavallo e così ho iniziato. Poi nel 79 mi sono iscritto a una scuola di equitazione e da lì eccomi qua, sono passati tanti anni, è diventato un lavoro dalla passione e niente, eccomi qua. È da 8 anni che pratico questo sport, ho iniziato anch'io dai poni, anche di questo circolo, dai primi poni, pad, altri poni e poi sono passata ad un altro istruttore con cui ho iniziato a fare delle gare e mi è piaciuto sempre di più. Sono 8 anni che pratico questo sport e mio zio è istruttore qui a Ravenna quindi ho iniziato ad andare a cavallo dai poni e è una cosa bellissima perché stai a contatto comunque con un animale. Una passione che porti da sempre, che emozioni ti regala appunto questo sport, se si possono descrivere? È uno sport un po' particolare perché diciamo che soprattutto per chi fa completo, che è la disciplina che appunto si sta effettuando oggi, quando si parte per il cross si affida letteralmente alla propria vita nelle mani, anzi nelle zampe del cavallo e il cavallo affida la propria vita al cavaliere. Questa sensazione è unica, almeno personalmente la vivo solo facendo questo tipo di sport e è una sensazione fantastica perché il dare fiducia al proprio animale che si è preparato con tanta passione, con tanta pazienza e spesso per fortuna viene completamente ripagata è una soddisfazione ineguagliabile. Le emozioni sono difficili da descrivere, è bellissimo, è sempre una cosa diversa, è sempre un'emozione nuova tutte le volte che si cambia cavallo, si parte per una gara. L'egame che si forma con un cavallo è molto grande perché comunque si è insieme a galoppare anche nel cross, galoppi insieme a lui in una pineta in cui sei da solo, quindi ci deve essere un legame molto forte. Quindi il rapporto fra il cavaliere e il cavallo si può descrivere solamente in modo unico, è un rapporto, che tipo di rapporto c'è bene appunto? Ma è appunto come dicevo è un rapporto particolare perché qua si affrontano ostacoli ad alta velocità, il cavallo non conosce il percorso, lo conosce solo il cavaliere. Il cavaliere ha fatto la ricognizione, ha deciso la strategia, il numero dei tempi di galoppo da mettere nelle combinazioni e il cavallo ha un istante per capire che cosa deve fare e deve assolutamente assecondare le richieste del cavaliere. Viceversa il cavaliere che affronta questi ostacoli fissi naturali a 40 km orari deve fidarsi che il cavallo dia un buon salto, faccia attenzione e questa è un'emozione unica. Non esiste un mezzo meccanico che ti possa dare la stessa sensazione perché devi dare fiducia al cavallo, insomma è una sensazione bellissima, adrenalina a mille e quando si finisce un senso di liberazione è fantastico. Beh diciamo che è un rapporto intenso e che cambia anche questo di volta in volta, ogni tanto ci si arrabbia, però è comunque un buon amico diciamo. Soprattutto anche alla partenza del cross è proprio qualcosa che provi solo te. Andrea Ianni per Avenna Web TV